Come per Lasca, come Schindler la sua famosa lista, ma come tanti altri che la storia non ricorda. Prima di diventare il Papa Buono, Angelo Giuseppe Roncalli è stato da delegato apostolico negli anni terribili della Seconda Guerra Mondiale l'angelo di Istanbul, come lo definisce ancora oggi il gran rabbino di Turchia, Isaac Aleva, nel film documentario del regista bolognese Vincenzo Bergolizzi. L'opera è stata proiettata ieri pomeriggio nell'auditorium del rettorato dell'Università D'Annunzio a Chieti. Nel film, oltre a documenti e interviste a protagonisti raccolte in Turchia, Israele e Stati Uniti, una parte consistente è affidata all'intervento diretto, tra gli altri storici, del professor Stefano Trinchese, docente alla D'Annunzio e autore di numerose pubblicazioni su questo ed altri argomenti ad esso correlati. Alla proiezione e alla successiva discussione sono intervenuti anche il regista Bergolizzi e la professoressa Paola Pizzo, docente di storia contemporanea alla D'Annunzio, esperta di questioni medio orientali. Sull'iniziativa abbiamo sentito il professor Trinchese. Il pragmatismo di Roncalli è straordinario, perché lui è un uomo che non guarda all'interlocutore dando un giudizio di tipo morale o etico. Lui utilizza il buono che trova nelle persone. Ad esempio in Franz von Papen, che è l'ambasciatore di Hitler, e quindi un credente nazista, un fermente nazista, lui trova però un cattolico nel contempo che lo aiuta a salvare tanti ebrei. E von Papen rischia la vita, perché lui è un funzionario nazista. Professore, oggi parliamo di Roncalli, però ci sono tanti altri, tra virgolette, eroi che hanno salvato tante vite umane, ebrei soprattutto, ma non soltanto ebrei. Secondo lei perché spesso sono dimenticati? Perché la storia dimentica questi personaggi? Perché noi continuiamo a fare la storia dei grandi uomini o delle ideologie. Invece la storia è percorsa da tanti uomini. La storia, diceva un grande storico, è soprattutto la storia degli uomini comuni. E se noi ci affidiamo agli uomini comuni ne troviamo tanti. Penso a Perlasca, penso a personaggi incredibili che hanno salvato le vite umane e che solo dopo la loro morte sono stati trovati. Questo vale anche per Roncalli, poi divenuto famoso come Giovanni XXIII. Insomma, la storia è fatta spesso da piccoli, grandi uomini, ma noi ricordiamo i grandi uomini, non sempre buoni, non sempre importanti. Grazie a tutti.